Musica Musica Bentri a tutti da Xmax Benvenuti a questo nuovo video Siamo tornando a un nuovo video leggendario ragazzi Perché oggi siamo qua ufficialmente per Ufficialmente arrivare di nuovo A leggenda 1 siamo qua ragazzi perché abbiamo fatto nella live Scherete nei commenti io c'ero se c'erovate Nella live del 13 agosto Ma a 13-13 agosto alle 14 abbiamo mostrato la live Ci abbiamo fatto ritornare a leggenda 2 A leggenda 1 A leggenda 2 E questa è l'ultima partita ragazzi Gameplay dell'ultima partita Per questo video vi chiedo un like Un'iscrizione nella campanella Connetevi con i vostri amici Se volete un saluto di attacca su Discord Con il link in descrizione Se volete un saluto di attacca su Discord Con il link in descrizione per abbonare Se volete un link in descrizione Per comprare i miei di Shorts Di XMAX Se volete un link in descrizione Per fare una piccola domazione Quarto link in descrizione Per il saluto di Viola Mettete tutto il codice creatore di XMAX Su Fortnite e Big Games Se non vi perdetevi lo short Tra 1 ora alle 11.45 Che lo short di oggi pomeriggio Alle 15.45 E da questo ragazzi Io direi di iniziare A andare a vedere Un pochettino come gioco ragazzi Mi raccomando ragazzi Di non valutare il mio gameplay Perché faccio schifo ragazzi Non ho giocato Ero un po' in anzi Dovete capire Iniziamo Adesso un po' il volume Non mi si può baggare Se si bagga è un problema Vediamo un po' Devi essere Se XMAX ce la farà Dai velocemente Ora Ora bagniamo Angelo Ricercati Dimmi che iniziamo noi Iniziano loro Ascoltami Luis Andiamo un po' avanti Bagniamo Allora Angelo Eugenio e Maxine Ok Metto un tic Va bene Noi mettiamo Iris Colt Piper Lola Chi metto? Metto bel E io metto bo Perché non so Che voler mettere Andiamo avanti E vediamo un pochettino La partita Ragazzi Non parlo come Cicavo perché Era molto Molta 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 Come c'è Uno Mito Se vengo West Arrivò Leggenda Uno Vediamo I colpi Non ha senso Sto tic Di cavolo Eh vabbè raga Mai perso Ma questi qui Veramente Ma che brawler Usano Ma che cavolo Pensavo che Non si è perso Ragazzi Ci sta Spensa sempre Così Non lasciare un brawler Allora Iris E counter Di Typer Almeno questo Dai Dai Pozzi Bravissimo Ok Inizio fa la kill Torra indietro Torra indietro Tengo io Tengo io Tic Oh e basta Lola Niente Lola lì mi disturbava Troppo Eh vabbè Che game play Mi tengo Lola Io mi tengo Lola Ragazzi Sprende Tic Però Sto Tic Del cavolo Mi ha rotto Le scatole Bro Basta Lola È rotto Io non commento Ragazzi Voglio far guardare Proprio la 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 Sì sì Sto leggendo Dico Un secondo Ragazzi Per favore Un secondo Perché Ehm Spero che mi sto concentrando Mi sono partiti Difficile Un secondo E basta Niente Sono morto No Mi sono vita Una porca Bravo Signor Pozzi Non morivo Io perché sono morto Sono stupido Scusate 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 Andiamo avanti Stato Mi ha rotto Le scatole No Le scatole Mi ricordo Ancora Adesso Quanto rompe Lola Mi ammazza Ciao Andrea Come stai Scusate Sto giocando Malissimo Lo so Bravo Luiz Recupera vita Recupera vita Ringrazio ancora Luiz Pozzi Grazie mille Signor Pozzi Grazie mille Luiz Oh e basta 13 secondi Dobbiamo resistere Ragazzi Dobbiamo resistere Non si mette un gadget Per aiutare Oh aiuto In questo momento Stanno morendo tutti Se morivo anch'io Era perso Ma non sono morto Mamma mia Dimmi tutto Dimmi tutto Eh non so Papio Ho ansia Ciao Papio Come stai Buonasera Buon pomeriggio Ragazzi Non sto giocando Adesso Sto guardando gli altri Che sparano Non tienilo al centro Così facile Ragazzi Non veramente Non potete capire Non sono un player Non riesco Non riesco a tenerli questi Sono troppo forti per me Io lo dico eh Io non sono forte Ragazzi Non posso battere Stagione Ma guarda Sono umile Mi stanno carriando Ok lo dico Si dice Le cose Le cose Si dicono Il signor Pozzi Se non muore È un goat Ok Non goat E' morto il signor Pozzi E' morto il signor Pozzi E' morto il signor Pozzi E' morto il signor Luis Ok Sì sì Dopo ti rispondo Andiamo un po' Vediamo se riusciamo a farlo La kill Eh vabbè ma come hai fatto A prendermi però Ma basta Eh ma no Questa è persa Sembrava persa Sembrava persa raga Signor Pozzi ha fatto una kill Mamma mia signor Pozzi raga Comunque veramente C'è un altro livello Si è morto purtroppo 9 a 5 Si ho capito ma io devo fare qualcosa però Cioè non posso stare dietro al muro Non posso fare niente L'Xmax sono giochi E niente Ahia lui si è morto ancora Andiamo Allora Oh my goodness Niente GG per loro Ciao ciao Ti mando un bacione Sharon Senta d'oggi in questo momento Non stai alla muro Eh lui si è morto Lui si è morto Si Aspetta Poi hai persa E sono suicidata Luiz se non morire Non morire Luiz Per favore Adesso hai cal Sabrina tutti 3 Questi qua sono 10 secondi più in ansia La mia vita Gli faccio l'ultima kill Guardateli Ho fatto l'ultima kill L'ultima kill Degotto GG per noi Dovrebbe essere agenda 1 ma sulla live vi dovrebbe salutare leggenda 1 ci godo non ci posso credere ci godo è win l'ultima killa aderich max grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille ragazzi tutti e due seee ci godo gg prima di andare in sardena questa è stata in sardena già con l'account perfetto grazie luis con la mano non me ne frega nulla leggenda 1 basta gg grande Diego grande Rita leggenda 1 abbiamo lo star drop leggendare adesso saluto le persone del video perché questa clip pusciano nel video mentre sono in sardena siete io in cilio in cilio mi apri la star drop leggendario se magari non si bugga 9 star drop leggendario ma lo trovo a gianette magari dai puoi apri quanto ci mettono ad aprire la star drop leggendario le ho fatto all'11 dopo cosa andiamo a trovare win mamma mia aprilo sto star drop perfettamente mamma mia l'ultima kill l'ho fatta io la mia posizione così la kill della win l'ho fatta io e che andiamo a trovare 3 2 1 2 1 vai ma va ma stai fazzando ma stai fazzando vabbè ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto vi chiedo un like con la descrizione della campanella per questo video in cui ritorniamo leggendo 1 la terza volta di fila scrivete nei commenti voi quanto siete in rank scrivete io c'ero nei commenti se voi c'eravate in live lasciate un like con la descrizione della campanella scrivete hashtag leggenda se siete arrivati fino a questo punto il video lasciate un like iscrivete e attivate la campanella convivetevi tutti i vostri amici se volete subito su disco su link in descrizione se volete su link in descrizione mentre mi saver discord primo link in descrizione per abbonarvi se volete su link in descrizione per i miei compagni di show di xmax terzo link in descrizione per fare una piccola donazione guardate un link in descrizione per seguirmi sul sito vi voglio mettete tutti il codice ciao ragazzi